Benvenuti nel mio canale, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione della serie turca Endless Love. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. La trama di Endless Love sembra avvincente e piena di colpi di scena. La rivelazione che Zeynep sia la vera assassina di Ozan ha scatenato una serie di eventi drammatici. Nian, la madre di Nian e Emir sono tutti coinvolti in questa situazione esplosiva. La madre di Nian, dopo aver scoperto la verità dalla lettera di Zeynep, sembra essere fuori controllo a causa della rabbia. Nel frattempo, Emir cerca di proteggere Zeynep, preoccupato per il futuro del loro bambino. Quando Zeynep si rifugia al porto e pronta per scappare Emir gli ha fatto trovare una barca che la porterà via, Nian e Vilden la raggiungono. La situazione diventa ancora più intensa quando Vilden estrae un'arma da fuoco e la punta contro Zeynep. Nian cerca di fermarla, rivelando che Zeynep è incinta. Kemal, presente sul posto, cerca di intervenire, ma Zeynep sembra priva di vita. La disperazione è palpabile, e Vilden rischia di finire in carcere per tentato omicidio. La tensione è alle stelle. Sarà questo l'ultimo capitolo della storia di Zeynep, o ci sarà ancora spazio per un inatteso colpo di scena? Restate sintonizzati per scoprire come si evolverà questa intricata vicenda carica di passione, segreti e conseguenze impossibili da prevedere.